Senigallia Web TV, le notizie di oggi, giovedì 9 di ottobre. I carabinieri di Senigallia hanno tratto in arresto un 34enne tunisino per i reati di furto aggravato, continuato e tentata estorsione. Aveva rubato due telefonini cellulari e poi avrebbe contattato i proprietari chiedendo un riscatto per riaverli. Il TFR in busta paga dei lavoratori dipendenti, il servizio. Ad oggi ancora un'ipotesi l'inserimento del TFR in busta paga. I lavoratori si ritroverebbero così 100 euro in più al mese secondo i calcoli del Premier Renzi. Ma è davvero così e le imprese ne risentirebbero? Le imprese sono comunque colpite dalla crisi relativa alla diminuzione dei consumi, colpita da una tassazione sempre più alta rispetto anche alle altre relazioni. Togliere liquidità relative al TFR chiaramente metterebbe in grosse difficoltà a tutte le imprese. Questo è il problema saliente. Invece di creare circoli virtuosi che poi possano aumentare la possibilità di investire da parte delle imprese, da parte chiaramente anche di aumentare i consumi con la togliere liquidità all'azienda e creerebbe chiaramente grossi problemi. Perciò la posizione di confcommercio è molto preoccupata e chiaramente non è favorevole pur non sapendo ancora esattamente quelle che sono le precise indicazioni che dovrebbero venire fuori per questo TFR in busta paga. L'Associazione Oncologica Senegalese Valli del Misa e Nebola organizza con il patrocinio del Comune di Serra dei Conti l'incontro dibattito sul tema dell'assistenza domiciliare oncologica integrata. Venerdì 10 ottobre alle 21 presso la Sala Italia. Sarà presentato venerdì 17 ottobre alle 17.30 nella Sala Conferenza della Biblioteca Antonelliana di Senigallia il libro dichiara Arrighetti in obliquo nella notte, romanzo storico ambientato tra Trento e Val di Non nel primo decennio del 1500, alla vigilia di quegli eventi che daranno vita in tutta la cristianità a mutamenti inarrestabili. Tre Castelli si inaugura la mostra di Maria Mulà in occasione della Giornata del Contemporaneo e per i due anni di apertura del Museo Nori dei Nobili. Una grande mostra, sabato 11 alle 18.30 si terrà l'inaugurazione. Con l'occasione il Museo Nori dei Nobili vuole aderire alla Giornata del Contemporaneo proposta da Amaci, Associazione Musei d'Arte Contemporanea italiani. Giovedì 16 ottobre 2014 ricorre il 124esimo anno della nascita di Santa Maria Goretti di Corinaldo. Grandi festeggiamenti in occasione della settimana gorettiana al santuario a lei dedicato. Si inizia l'11 ottobre con la Santa Messa di San Francesco, domenica 12, solenne celebrazione preseduta da Don Paolo Magni, martedì 14, veglia di preghiera per i giovani al santuario animata dalla pastorale giovanile della Diocesi. E anche con questa notizia oggi chiudiamo il nostro Tg, l'appuntamento come sapete per domani. Grazie. 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 Grazie.